A ti fare Evoli ci sono per noi Massimo e Mattia Salvadori che ora vi presentiamo. Invece non tutti conoscono Massimo e Mattia Salvadori che non solo sono padre e figlio, si vede anche dalla somiglianza, ma sono anche compagni di squadra. Si vede dalla sciarpa. Giocano insieme a calcio nel Bassa 2001. È una squadra di che lega è? Di lettanti immagino. Lega amatoriale. Lega amatoriale? Quanti anni avete di differenza papà e figlio? Sì, io ho 47 anni, mio figlio ha 18 anni, giocavano insieme. Chi è il più forte dei due? Il babbo. Il babbo. E in che ruolo giocate? Io c'entro a pista e io sono una punta ora. Di quelli che non la passano mai? No, no, gioco per la squadra io. Vedi, è anche pronto per la squadra e per la famiglia. Sappiate che questa per voi oggi è naturalmente una prova e se andrete bene vi inseriremo nella chat dei campioni del mondo di Fulvio Colovati. Dove girano cose, mi raccomando. Non puoi dare premio.